Sugli scudi il circolo ippico Equestrian Riders Montesilvano, pieno di medaglie ai recenti campionati europei svoltisi in Danimarca. Quattro ragazzi abruzzesi guidati da Barbara De Massis hanno portato in alto il tricolore italiano. Per la precisione hanno conquistato la medaglia d'oro con 158 punti nella categoria Under 12. Le pescaresi Camilla Di Renzo in sella al cavallo Pandora ed Elena Core in sella al cavallo Bam Bam. Altresì di rilievo il secondo posto, la medaglia d'argento ottenuta da Donato Tatonetti nella categoria Under 18, oltre al terzo posto con relativo bronzo conseguito da Lorenzo Savini nella categoria Open. Barbara De Massis, intanto complimenti, non sono di grammatica ma assolutamente sinceri. Che trionfo! Sì, sicuramente una delle soddisfazioni più belle dal punto di vista sportivo agonistico. Sono risultati che ovviamente si guadagnano negli anni. Quattro ragazzi di questo circolo hanno portato l'Italia, hanno contribuito a questo successo di inestimabile valore, ma non è la prima volta per quanto vi riguarda. Sì, abbiamo già ottenuto dei risultati, dei titoli a livello internazionale, varie medaglie agli europei, in varie categorie, abbiamo un titolo importante, ottenuto se non erro nel 2018, nel mondiale individuale, abbiamo fatto medaglia di bronzo. Poi abbiamo vinto il mese scorso i campionati italiani, sia in under 12, in under 18 e in Open. Intanto complimenti a Camilla Di Rezzo, molto ma molto giovane, under 12, ha vinto l'oro, i recenti campionati europei che si sono svolti in Danimarca. È stata un'esperienza immaginiamo indimenticabile. Sì, molto indimenticabile anche perché è successo un imprevisto in squadra, perché una delle compagne in squadra non poteva montare il suo pony, allora per fare lavoro in squadra ho dato il mio pony a questa bambina e allora abbiamo fatto la gara con due pony diversi, io con i pony della bambina e lei con il mio. Ciò nonostante ce l'hai fatta, anzi ce l'avete fatta. Sì. Quando hai cominciato? Ho cominciato all'età di sei anni con Endurance, poi sono venuta da Barbara De Massis e ho iniziato a fare pony games, ho iniziato a intraprendere questo percorso. Di recente hai vinto anche il titolo italiano? Sì, è molto emozionante vincere perché comunque è una competizione e ti diverti. Poi la cosa che mi è piaciuta il più di quest'ultima gara è di aver tolto il primo posto ai francesi e poi l'ultimo giorno quando dovevamo fare un gala abbiamo conosciuto meglio i francesi, gli abbiamo insegnato un po' l'italiano, abbiamo giocato insieme a loro. E quindi avete fatto amicizie alla fine. Sì, sì. Cioè la gara poi finisce tutto lì. Sì, purtroppo sì, non si possono rivedere le stesse persone ogni gara, però è stato sempre molto divertente e molto emozionante.